Il pallone valla girata ancora per Suma che prova ad andare, Suma alza il pallone lui, arriva verso Maurizzi, palla che arriva nel zone di Marini che stringe troppo la conclusione nell'inquadra alla porta, grande occasione per l'Olimpica Arriva il fischio adesso, parte Ferruzzi, la mette dentro, il colpo di testa, il pallone che finisce fuori però Col destro prova a far salire Scirocchi, prova ad andare ancora a Scirocchi con lo scambio, palla data da Iello che ci pensa e prova Palla larga però, aspetta il fischio dell'arbitro che arriva adesso, parte Ferruzzi, la gioca centralmente Marini di testa, stacca bene solo dentro l'area di rigore, non inquadra la porta nemmeno in questo caso Per il track, ancora con Savarese, per un attimo di vista il pallone torna sulla sfera con il mancino Savarese, centrale E allora Marini, prova lo scambio ancora con Scirocchi, prova la finta Scirocchi, riesce ad andare via all'avversario Poi la mette dentro sul secondo palo dove c'è Iello, colpetto, l'appoggia per Maurizzi Maurizzi, è sempre lui, che gol meraviglioso 1-0 Tivoli Da questa parte sale ancora come un treno Scirocchi che arriva, prende il pallone con la destra, prova il cross sul secondo palo, palla buona ancora per Maurizzi La super risposta di Carbone Quale compagno sceglie, sceglie Suma, prova a girarsi Suma in area di rigore, cerca di passare, riesce per un attimo, poi col mancino, prova la risposta di Carbone La porta ci pensa Poi va ancora sul mancino, prova a scappare, palla che passa, ancora Savarese in area di rigore Pallone largo Arriva il fischio dell'arbitro, parte Suma dentro, Scirocchi prende il terzo tempo Scirocchi di testa, raddoppia l'Olimpica Tivoli Scirocchi può far ripartire uno degli ultimi attacchi, Giarei prova a verticalizzare, sono soli praticamente i giocatori della Tivoli Fuori gioco, da parte di Maurizzi Arriva il triplice fischio del direttore di gara, finisce così 2-0, Olimpica Tivoli contro Tracra, Olimpica Tivoli che approda in semifinale di Coppa Lazio